Vediamo che vuol dire, chiama i servizi sociali, cerchiamo qualcuno che venga a parlare con loro. Devo preparare il foglio di dimissione? Sì, dobbiamo, è pazzesco ma dobbiamo farlo. Mi ricorda un caso che mi è capitato a New York quando una è venuta nel mio ufficio e... Senti, hai bisogno di me per qualcos'altro riguardo al lavoro? Senti, sono stato sposato per 11 anni. Edison è la mia famiglia, cioè 11 anniversari, 11 compleanni, 11 Natali e in un giorno dovrei firmare un pezzo di carta e cancellare la mia famiglia. Un uomo non può fare così, non senza una certa esitazione. e ho il diritto di avere una qualche perplessità. Solo un momento per capire l'enormità di tagliare fuori qualcuno dalla mia vita. Ho diritto almeno a un momento di... di dubbio straziante. E un po' di comprensione da parte tua sarebbe gradita.